seconda registrazione questa volta in full hd a 60 frame per secondo con stabilizzatore ottico inserito andiamo a vedere anche qua come si comporta lo zoom attraverso i tasti del volume molto veloce anche qui vedete decisamente molto meno ballerina diamogli il tempo di metterlo a fuoco un po lentino ma lo vedremo poi sul filmato caricato su youtube come si comporta sembra che il cielo voglia darci qualche tregua e finalmente cominciare a fare un po d'estate solito prato oramai questo è un panorama che conoscete a memoria la solita torre laggiù proviamo a inquadrare anche lei con uno zoom lo vedete adattamento della luminosità torniamo e anche in questo caso vi faccio vedere le mie piante qua sul giardino vedremo come si comporta con i suoi colori proviamo avvicinarci cosa che in 4k non ho fatto direi una messa a fuoco molto veloce ultimo pan con inquadratura finale sulla nostra solita cascina ciao da massimiliano per thegeekers.it grazie a tutti Grazie a tutti.